Uno spettacolo triste è quello che si propone da alcuni giorni sulle coste della Nuova Zelanda. Dopo i 400 di venerdì, ieri altri 200 cetacei si sono arenati sulla spiaggia di Farewell's Pit. Nel paese il fenomeno si ripete costantemente ogni anno, ma è inconsueto il fatto che in questa circostanza abbia riguardato due gruppi così numerosi. Molti i volontari in campo per cercare di salvare i 200 cetacei che si sono spiaggiati a 150 km ad ovest della città turistica di Nelson in Nuova Zelanda. Un fenomeno questo per il quale non esistono ancora spiegazioni scientifiche. Da venerdì sono 600 i cetacei arenati, la maggior parte sono morti. Fabrizio Serena, responsabile settore mare dell'Agenzia Ambientale della Regione Toscana. Molti anni fa se ne spiaggiavano circa mille. Quali potrebbero essere le motivazioni? Un inquinamento acustico che determina il disorientamento. Da dove potrebbe arrivare l'inquinamento? Certe esercitazioni, anche militari. Per evitarlo, cosa si potrebbe fare? Riuscire a capire quali sono i loro movimenti, di lottare queste ricerche su altri luoghi. Ci vuole la volontà, finanziamenti.